Allora ragazzi, io come al solito devo fare questi video, che non voglio fare ma sono costretto a fare perché evidentemente certe persone non si rendono conto di quello che fanno. Allora, diciamo che è già tutto spiegato nel titolo, perché vogliono diffamarmi. E c'è pure la miniatura nella quale troverete lo screen del commento in questione. E questo signore, lo chiamo signore solo perché se usa determinati termini il video potrebbe essere bloccato, questo signore non solo viene sotto la live iniziando a dire fake, 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 così ecco là. E ha fatto inervosire anche l'ospite della mia live, perché stavo facendo la live in compagnia di minerali cristalli, che poi in privata mi ha pure iscritto, incazzato, dopo la live. Mi ha detto, eh ma, cioè io la live così non ne voglio fare più. Cioè, ragazzi, non solo appunto ha fatto incazzare l'ospite della live, ha iniziato a dire fake, così ecco là, e a usare, ma a esagerare, allora che ho dovuto anche iniziare a rimuovere i suoi commenti. E poi, questa stessa persona, che io so perfettamente chi è, mi manda appunto questo messaggio, in un commento, che non vedrete mai, perché non l'ho provato, però ho lo screen, in cui mi dice appunto che ha creato il canale, chiamandolo con lo stesso nome del mio canale, oltretutto, e in più mi dice, guarda, io farò dei video in cui appunto andrò a dire tutta la verità, senza che tu possa andare a censurare niente, a oscolare niente. Allora, ragazzi, io, come devo spiegarvelo, che le cose che ho portato, la fresco, i resti umani, e il concorso, sono vere, tra l'altro, proprio per quanto riguarda il concorso, il vincitore stesso, che ha partecipato alla live, ha commentato, e ha scritto, guarda, sì, ci siamo sentiti, e tutto il resto, e ha confermato, che effettivamente, lui è stato il vincitore, e io l'ho contattato. V'ho messo pure lo screen, nella sezione community del canale, tramite post, ho messo proprio lo screen dell'email che gli ho mandato, e della sua risposta, e hanno iniziato a dire le persone, è un account che ti sei creato tu, che poi è proprio questa cosa qua, è uscita fuori adesso, che io mi sono creato degli account, sia per le mail, sia dei canali youtube fake, che tramite la quale, appunto, ho cercato di difendermi, di far passare per vere le cose che ho detto, ma, non ha senso questa cosa, addirittura, quando diceva, e ho visto la tua stessa finestra, ho visto quello, quell'altro, ci possono stare tante finestre, che sono anche uguali, io non è che voglio dire, poi, con un'altra teoria, con la quale è saltata fuori, è che questo canale, che mi ha difeso, che si chiama, The Beatboxer, si chiama, questo canale qua, appunto, il tipo del canale, si chiama Memphis, se non mi ricordo male, e quello diceva, eh no, guarda caso Memphis, come il nome di un personaggio, di Bruxelles, quindi, insomma, se ne è uscito fuori, con delle teorie strampalate, veramente, anche di questo, c'è lo screen, ovviamente, quindi, alla fine dei fatti, sono solo stronzate, ma io, fino a quando è stato comunque, qualche commento, lasciato sotto la live, ho lasciato correre, vabbè, ho chiuso la live, perché mi si stava inervosendo l'ospite, e io, adesso le sto facendo sempre in compagnia, le live, ho dovuto a malincuore chiuderla, nonostante ci fossero, anche cinque spettatori, e stessero, diverse persone lì a commentare, ho dovuto chiuderla la live, purtroppo, per colpa di questo signore, però poi, mi manda questo commento, proprio con il canale già creato ad hoc, che si chiama Minerali Extreme, come il canale mio, Minerali Extreme, e che mi dice, che farà appunto dei video, in cui esplorare, quella che per lui è la verità, io voglio solo ricordare, a questo signore, e anche a voi che vedete questo video, che questo si chiama diffamazione, andare a dire cose, perché quelle cose là, sicuramente saranno tutte false, a differenza invece del mio canale, che io porto solo cose vere, si chiama diffamazione, quindi io, semplicemente, invito a non fare queste cose, perché, altrimenti, passereste i guai, ma, non è una minaccia, attenzione, semplicemente, perché si chiama diffamazione, ed è passibile di denuncia, perché, comunque sia, sta un po' sfuggendo di mano, questa cosa, e non mi va certa genio, in più, mi è stata rovidata una live, l'ospite che era con me, si è incazzato, ma, non poco, quindi, per piacere, finiamola qua, e non fate stronzate, perché, qualora, questo signore, inizierà a mettere, dei video in cui mi andrà, diciamo, a, a, diffamare, a dire queste cose false su di me, cioè, verrà denunciato, verranno presi tutti i provvedimenti, necessari, quindi, evitiamo, evitiamo, anche perché, cioè, ognuno deve pensare alla propria vita, e ai propri problemi da risolvere, che non sono certo, quelli di distruggere, uno youtuber, come me, un piccolo youtuber, come me, quindi, per piacere, finiamola qua, quindi, spero che non ci siano, non ci siano, altre spiacevoli situazioni, perché, altrimenti, poi verranno presi, i necessari provvedimenti, spero di essere stato chiaro, specialmente, per quel signore là, e, chiedo scusa agli altri, per questo video, ma, era necessario, anche se non voluto, e ci rivediamo, al prossimo video. Grazie.